E improvvisamente un femminile napoletano, mentre io parlo, mi tace. Non ho mai raccontato la mia storia perché ne avevo proprio vergogna. Mio padre è un boss della Camorra, uno di quelli che mi ha fatto maggiori danni. Ebbene, io là nasco in quel azzurro patriarcale ed è terribile. Il documento è... Meno male. Meno male. L'amico che mi era accanto e dice, ti ho riconosciuto, il sangue è sangue, o sangue è sangue si dice a Napoli. Questi sono i miei spazi, cioè io da qui parto per poi andare in caccia nelle scuole. Eri deficiente, eri sfaticato, no? Qua era? quando...